Sono due parole, siete bellissimi, grazie sempre di correre e volevo solo dirvi questo, avevo Davide di vent'anni, è morto e è stato privato della sua libertà di vivere e di amare. Adesso voi avete la libertà di correre e lo fate anche per mio fratello e per tutte le vittime, per tutti coloro che sono rimasti uccisi o feriti o colpiti in queste stragi. Vi voglio bene, vengo da Verona e sono abbastanza distrutta, ho la macchina quasi rotta ma io voglio esserci, grazie.